indovina dove siamo qua su youtube su youtube è perché abbiamo aperto un canale youtube adesso ma è un canale youtube questo adesso da tic toc a youtube direttamente vogliamo fare con tic toc ok google puoi chiamare a così ama a donna andrea donna andrea cosa e chiama padre si sta parlando il parroco parte della chiesa di san parroco e che vuole il parroco a chi cerca il parroco io lo cerco il parroco perché la vuole andare a trovare si vuole confessare si confessi pure prego mi mi rica si confessi pure prego allora manda tutti un bacio e iscrivetevi al nostro canale iscrivetevi al nostro canale iscrivetevi al nostro canale al nostro canale perché ne vedrete delle belle